Andiamo a Vicenza, lancio di sassi, lacrimogeni cariche delle forze dell'ordine, è finita così la manifestazione contro la base militare americana. E ci spostiamo adesso anni scemi per la protesta contro il MUOS, il sistema di telecomunicazioni satellitare della marina militare statunitense. Cresce la tensione dopo che alcuni attivisti stamattina sono saliti su un treliccio all'interno della base americana. Grazie a tutti.